Forse ci sono ancora speranze per far ripartire gli impianti di risalita dei prati di Itivo e salvare il salvabile per una gestione scistica ancora non avviata. Questo perché a quanto pare tra domani e dopodomani la provincia chiuderà il contratto per la gestione degli impianti con un gruppo di imprenditori ascolani, dopo che la Siget, ricordiamo, aveva ritirato la propria offerta di gestione fino a fine settembre e 50.000 euro di canone. Gli imprenditori ascolani sembrerebbe aver presentato un'importante manifestazione di interesse che a quanto pare piace al presidente della provincia di Buonaventura. Per salvare una stagione che è già partita male, l'ho detto, ancora oggi, in questo giorno, a preditivo, mentre le condizioni non sono accettabili, ci sono persone che stanno lavorando per fare la manutenzione agli impianti. L'ho detto e l'ho ripetuto, dei lavori che devono essere fatti in estate, vengono fatti oggi. Ecco, sapete che manca il gestore che è andato via all'ultimo momento e non sappiamo neanche il perché, però ecco, senza scoraggiarci, siamo al lavoro, da venerdì abbiamo trovato altri gestori che sono interessati e speriamo di chiudere entro i prossimi giorni. Io dico che adesso c'è una scadenza, ecco, un cronoprogramma già avviato, ecco, il rilancio della provincia passerà veramente alla gestione dei prati di Tivo e Prato Selva. Anche qui facendo un'azione veramente diversa, collegando le nostre montagne con gli altri impianti. Si parla di un gruppo ascolano, imprenditori pronti, perché comunque ci si augura che gli impianti vengano riconsegnati il 18 di gennaio. Sì, ecco, la società che sta facendo i lavori, come dicevo prima, in questi giorni riconsegnerà gli impianti del 18-19 e lì dobbiamo essere pronti affinché il gestore ci sia già pronto per essere operativo. Ecco, parlate già di imprenditori delle marche, ci sono altri imprenditori campani, c'è all'orizzonte, per un progetto futuro, imprenditori che gestiscono le montagne, le famose Alpi italiane, ecco, perciò senza paura, ecco, senza, ecco, si chiude una porta, si aprono dei portoni e puòarsi che sarà l'inizio di una nuova era per la montagna della provincia di Teramo. Grazie.